Musica Buonasera, bentrovati per l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Michele Scasserra ha ufficializzato con una conferenza stampa la sua candidatura a sindaco per la città di Campobasso in rappresentanza del neonato polo civico. Al suo fianco il fondatore di Costruire Democrazia, Massimo Romano. Ma si parla già di sei liste trasversali che potrebbero sostenere l'ex assessore regionale alle attività produttive. Allora sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. In città non si parla d'altro. La candidatura di Michele Scasserra con il polo civico a sindaco di Campobasso ha spiazzato tutti. La nuova aggregazione lanciata solo dieci giorni fa dall'insolita coppia Romano-Scasserra cresce a vista d'occhio e raccoglie consensi trasversali soprattutto tra i cittadini. Nel corso della conferenza stampa durante la quale ha ufficializzato la sua candidatura l'aspirante sindaco ha elencato i capitoli più importanti del suo programma che verranno poi approfonditi, ha detto, con i rappresentanti delle sei liste che lo sosterranno nella competizione del 25 maggio. Innanzitutto una sfida l'abbiamo già vinta. La sfida è quella di creare un polo civico tra persone di provenienza diversa, persone che hanno deciso di interloquire nella soluzione dei problemi individuando appunto la soluzione come obiettivo. La sfida è proprio questa, cercare di individuare gli obiettivi e trovare il modo in cui raggiungerli e realizzarli appieno tenendo ben presente diciamo quelle che sono le priorità legate al nostro comune capoluogo, ai cittadini, alla sanità, all'ambiente, al centro murattiano, alle contrade, ai rapporti con l'università, ai giovani e alla qualità della vita. Quali sono le emergenze da affrontare? Non vi è dubbio che oggi c'è un'emergenza occupazionale, c'è un'emergenza sociale notevole ed è qui che il comune deve cercare di intervenire avendo una dignità di rappresentanza nei confronti di altre istituzioni che più possono fare per lo sviluppo e per la ripresa delle attività produttive per cercare di dare una spinta un po' più importante alla nostra regione e al nostro comune in particolare cercando, lo dico, sicuramente di spingere in maniera molto molto forte verso l'edilizia magari tendendo verso il recupero del nostro patrimonio urbanistico sia pubblico che privato per cercare di rendere più bella la città, far lavorare più persone. Lei ha parlato anche di Europa? Sempre, credo che l'Europa sia un interlocutore importante almeno quanto lo è la regione e lo è tanto per un comune capoluogo. Quindi la nuova sfida è quella di cercare di trovare risorse, strumenti adeguati ad una progettualità nuova per cercare di realizzare quelle opere che probabilmente senza questi interventi sarebbero di difficile realizzazione. Al fianco dell'aspirante sindaco Michele Scasserra, il fondatore di Costruire Democrazia, Massimo Romano. Continuare a portare avanti le battaglie sugli argomenti per i quali ci siamo spesi in questi anni all'interno di una nuova aggregazione civica che condividiamo insieme a persone che provengono anche da esperienze diverse. I temi sono gli stessi, la difesa della sanità pubblica come diritto fondamentale di tutti i cittadini, la lotta contro le speculazioni edilizie selvagge che hanno massacrato la città di Campobasso, la necessità di restituire a Campobasso un profilo istituzionale che consenta alla città capologo di svolgere quel ruolo fondamentale in termini di servizi sociali, politiche sociali e soprattutto di un livello culturale che va assolutamente recuperato nell'interesse dei cittadini campobassani. Dunque Michele Scasserra ha ufficializzato nel pomeriggio la sua candidatura, ma scopriamo i retroscena che hanno determinato la scelta finale dell'ex presidente di Assindustria, ancora Giovanni Minicozzi. Mancano ancora una quindicina di giorni alla presentazione delle liste, ma a meno di sorprese eclatanti il quadro dei candidati al sindaco per la città di Campobasso appare definito. Dopo gli aspiranti della prima ora, ovvero Gino Di Bartolomeo, Giuseppe Saluppo, Adriana Izzi, Roberto Gravina e Antonio Battista, è sceso in campo a sorpresa anche Michele Scasserra sparigliando le carte ai suoi competitori. La notizia è trapelata ieri sera al termine di una giornata di confronti intensi tra i diversi soggetti che poco più di una settimana fa aderirono al neonato Polo Civico. In realtà, però, la partita finale è stata giocata dai due fondatori della nuova aggregazione, ovvero Massimo Romano e Michele Scasserra. Le indiscrezioni raccontano di un lungo faccia a faccia tra il patron di Costruire Democrazia e l'ex assessore regionale alle attività produttive. I due esponenti politici, secondo i ben informati, non si sono accapigliati per conquistare la candidatura. Anzi, i retroscene raccontano di un braccio di ferro al contrario, ovvero Romano ha cercato di convincere Scasserra a candidarsi, mentre l'ex presidente di Asso Industria spingeva proprio su Massimo Romano. Il tira in molla sarebbe durato per diversi giorni, mentre tutti gli altri aderenti al Polo Civico avevano dato il via libera ad entrambi, lasciando la decisione finale ai due fondatori della neonata aggregazione politica. Alla fine è stato proprio Massimo Romano a convincere Michele Scasserra ad accettare la candidatura. Dopo aver lanciato questa coalizione, ha dichiarato a caldo Scasserra, non potevo declinare il pressante invito per un mio impegno diretto, anche in considerazione della totale lealtà dimostrata nei miei confronti sia da Massimo Romano sia da tutti i soggetti che hanno aderito al Polo Civico. Ora lavoriamo in piena sintonia, ha concluso l'ex presidente di Asso Industria, per vincere la competizione elettorale e per rilanciare il ruolo della città capoluogo di Regione. Elisabetta Cifelli si è dimessa da assessore comunale della giunta di Venafro. Motivi personali e non politici ha tenuto a specificare. Il sindaco Antonio Sorbo ha mantenuto le deleghe ai trasporti e alla pubblica istruzione e al momento non sembra intenzionato a nominare un sostituto. La giunta Venafrana scende così da 5 a 4 assessori. Elisabetta Cifelli alle ultime elezioni era stata la più votata. Rapinato oggi l'ufficio postale di Ferrazzano, parliamo di cronaca, in tarda mattinata due malviventi hanno fatto irruzione nell'agenzia che si trova all'entrata del paese e si sono fatti consegnare i soldi in cassa. Poi sono fuggiti, ci parla di questa storia Anna Maria Di Matteo. E magro il bottino realizzato dai due uomini che oggi intorno alle 14 hanno messo a segno la rapina all'ufficio postale di Ferrazzano. Appena 1500 euro la somma che sono riusciti a portare via. L'ufficio stava quasi per chiudere quando i due occhiali da sole e cappellino si sono presentati alla cassa. In quel momento pare ci fosse solo l'impiegata, dunque nessun cliente. I rapinatori che secondo il racconto della donna non avevano particolari inflessioni le hanno intimato di consegnare i soldi. Comprensibilmente spaventata la cassiera ha immediatamente dato tutto il contante che era rimasto. Appena 1500 euro. I due che pare non fossero armati hanno arraffato le banconote e sono fuggiti. Con molta probabilità davanti all'ufficio postale c'era un complice alla guida di un'auto ad attenderli. Si sono dati alla fuga senza lasciare tracce. Nel frattempo l'impiegata dopo essersi ripresa dallo spavento ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto per eseguire i rilievi. Al momento della rapina data l'ora non c'era nessuno in giro, nessun testimone che potesse fornire elementi utili agli investigatori che indagano sul caso. Un aiuto per risalire l'identità dei due uomini potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza. Sono stati istituiti diversi posti di blocco ma al momento dei due uomini nessuna traccia. Il piccolo ufficio postale di Ferrazzano era già stato rapinato all'incirca un anno fa. Anche in quel caso il bottino fu di poche migliaia di euro. Si indaga per dolo a Larino dove è stato incendiato l'esterno di un negozio di casalinghi. Importanti i danni con le fiamme che hanno rischiato di raggiungere la casa sopra l'attività. Ce ne parla Manuela Iorio. Un incendio è scoppiato in un negozio di casalinghi a Larino in via Cuoco nella notte tra sabato e domenica. Intorno alle 4 e 30 è stata la famiglia che vive sopra l'attività a dare l'allarme. Le fiamme che hanno distrutto tutto si sono sviluppate all'esterno sotto il portico in cui erano presenti molti prodotti destinati alla vendita e sono arrivate fino alla pensilina in plastica. A spegnere l'incendio dopo molte ore di lavoro sono stati vigili del fuoco di Santa Croce. Tanti danni soprattutto alla struttura dell'edificio che ora dovrà essere messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito e intossicato. Le fiamme fortunatamente non hanno raggiunto l'interno perché altrimenti i danni sarebbero stati ingenti e avrebbero gettato il titolare sull'astrico. Nei locali solo tanto fumo ma nella stessa notte sono stati incendiati anche i bidoni della differenziata di via Magellano poco distante da via Cuoco. Le fiamme hanno onerito anche la parete di un panificio vicino. A indagare sono i carabinieri di Larino al comando del capitano Dominici. I due incendi così ravvicinati fanno pensare che dietro tutto ci sia un atto volontario anche se i vigili del fuoco non hanno trovato né tracce di inneschi né di liquido infiammabile. Si indaga dunque per dolo senza escludere l'atto intimidatorio ma anche la bravata di qualche ragazzino. Intanto i militari stanno verificando la presenza nella zona di telecamere che possano aiutare le indagini. C'è stata una raffica di furti la notte scorsa tra Campolieto e Oratino. Presi di Miraville e appartamenti rubate anche diverse auto. Ancora Anna Maria Di Matteo. Hanno agito nel cuore della notte approfittando dell'oscurità. Hanno forzato una finestra e si sono introdotti all'interno di un'abitazione di Campolieto. In casa c'era un'anziana immersa nel sonno che stando ad una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stata narcotizzata. In effetti la donna non si accorta di nulla con i malviventi che hanno avuto campo libero. Con tutta calma, certi di non essere visti né sentiti, hanno messo a suo quadro l'abitazione. I ladri si sono impossessati di oggetti in oro custoditi in casa e di circa 600 euro in denaro contante. Alla malcapitata non è rimasto che sporgere denunce ai carabinieri. Ma non è stato l'unico colpo messo a segno in nottata a Campolieto. I ladri hanno infatti visitato altri appartamenti e portato via due auto in Contrada Monte. La raffica di furti non si è fermata lì perché sempre durante la notte appena trascorsa sono state rubate altre due auto a Campobasso e svaliggiate due villette a Doratino. Una vera e propria escalation di colpi registrati a Campobasso nei paesi limitrofi messi a segno pare dalla stessa banda. Un gruppo esperto è ben organizzato, pronto a fare uso anche di spray narcotizzante per poter agire indisturbato. Episodi si uguali indagano i carabinieri di Campobasso che peraltro hanno intensificato i controlli sull'intero territorio. Da qualche mese si sta verificando una impennata di furti in appartamenti e in ville. Un fenomeno che genera preoccupazione tra i cittadini. Le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione ma al tempo stesso invitano ad evitare inutili quanto pericolosi allarmismi. Ed ora ci occupiamo di inquinamento ambientale con la nuova discarica a cielo aperto, questa volta scoperta nella zona di Campo Chiaro. Intanto proseguono le verifiche a Campomarino dove in passato sono stati sotterrati rifiuti speciali. Ce ne parla Giovanni Di Tota. Un cratere a cielo aperto in mezzo a una cava abusiva. 5.000 metri cubi di rifiuti speciali sequestrati in contrada vicenne a poche centinaia di metri da San Polo Matese. Queste sono le foto scattate dagli agenti del corpo forestale di Boiano subito dopo aver sigillato la zona. Per lo più materiale proveniente da cantieri edili, scarti di cemento, residui di catrame, parti di plastica e vetro, cavi elettrici, fino a formare una sorta di collinetta artificiale di rifiuti speciali. Il titolare dell'impresa al quale sono risaliti gli agenti della forestale è stato denunciato per reati che vanno dalla gestione illecita dei rifiuti speciali alla violazione delle norme sull'inquinamento al mancato rinnovo della concessione per la gestione della cava. Un luogo, peraltro, a ridosso di una delle aree più belle dal punto di vista della natura e del paesaggio di tutta la regione. Un sequestro che ripropone ancora una volta alla cronaca il rispetto dell'ambiente e la questione rifiuti tossici che da qualche mese tocca da vicino anche il Molise. Vanno avanti a Campomarino, dopo il blitz della scorsa settimana dei carabinieri di Bari, le verifiche sulla presenza di rifiuti interrati o bruciati da organizzazioni malavitose che utilizzavano strani camion che partivano dalla Puglia pieni e tornavano indietro vuoti. Già nel 2011 il sindaco Camilleri aveva dato l'allarme su una sorta di bomba ecologica e parlato di decine di sacchi interrati. Una scena già vista in contrada Arcora nel 2003 e messa a nudo dall'operazione Mosca condotta su un traffico di rifiuti tossici che arrivavano dalle industrie del nord e finivano sotterrati a ridosso del bosco di Ramitelli. La bonifica nella zona non è mai stata fatta, così come non è stata ancora bonificata l'area di Cerce Maggiore, interessata già negli anni 60 dalle ricerche del petrolio e oggi ancora soggetta a radioattività di 10 volte superiore alla norma, benché i pozzi siano chiusi ormai da una trentina d'anni. Oggi i cittadini si sono costituiti in comitato come a Venafro la zona indicata da Schiavone come possibile pattumiera della camorra per i veleni da interrare. La verità per ora solo immaginata deve invece ancora venire in superficie. La polizia deve presidiare il pronto soccorso degli ospedali della regione 24 ore su 24, lo chiede il sindacato degli operatori sanitari a Nao Assomed dopo l'aggressione ai danni di medici e infermieri del pronto soccorso di Isernia da parte di un utente poi ricoverato a Campobasso. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Aggressione dei sanitari al pronto soccorso di Isernia prende posizione anche la Nao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri. E' il commissario regionale Giovanni Pulella che interviene chiedendo immediatamente alla ASREM e alle autorità competenti, prefettura e questura, l'attivazione di un posto di polizia funzionante 24 ore su 24 nei locali del pronto soccorso del Veneziale. Non è più possibile assistere a scene da Far West come quella accaduta la serata di giovedì scorso al pronto soccorso del Veneziale. Mettere a repentaglio la sicurezza di operatori che già danno molto di più di quanto ci si possa aspettare da loro è profondamente ingiusto. Per questo motivo il sindacato dei medici ospedalieri chiede l'attivazione del posto di polizia 24 ore su 24 in tutti i pronto soccorso della regione, la copertura sufficiente di personale medico e paramedico di turno, consentire infine turni di riposo di almeno 11 ore tra un turno e l'altro e trasportare con il 118 solo i pazienti gestibili dai diversi pronto soccorso. In pratica, dicono i medici, è sbagliato portare tutti i pazienti allo stesso pronto soccorso. Occorre attivare una rete di emergenza che gestita centralmente per via telematica possa offrire subito la migliore disponibilità offerta per le varie tipologie. E qui si tocca un punto dolente dell'intera architettura sanitaria della nostra regione. Infatti il Molise, che già produce annualmente dei deficit sempre più incolmabili, deve fare i conti anche sulla sua inadeguatezza qualitativa e strutturale. Infatti la nostra è rimasta l'unica regione d'Italia dove non sia stata ancora attivata la rete d'emergenza che consente di selezionare già con l'intervento del 118 il tipo di intervento da fare poi in ospedale. Rete d'emergenza significa poter collegare il computer dell'ambulanza a quello centrale che dà indicazioni se ci sono sulla storia personale del paziente e indica anche la struttura sanitaria più vicina e maggiormente idonea al ricovero. Il primario di cardiologia di Campobasso Isernia, Versaci, si è detto anche disponibile a far partire la rete d'emergenza e questo potrebbe già essere un piccolo passo in avanti che provoca meno problemi al pronto soccorso. Intanto è mattinata da segnalare le rassicurazioni date da Percopo a Pastore. L'ASREM ha già richiesto alle due questure l'istituzione di presidi di polizia funzionanti H24 nei pronto soccorso della regione. Staremo a vedere. Accordo tra regione, sindacati e zuccherificio per salvare i 16 dipendenti esterni che rischiano di rimanere senza lavoro. I loro contratti passeranno dal vecchio zuccherificio alla nuova società. I dettagli con Marcella Tamburello. Incontro Lampo all'assessorato al lavoro di Campobasso per decidere le sorti dei 16 lavoratori dello zuccherificio del Molise che con il passaggio dalla vecchia società zuccherificio S.p.a. alla Nucco S.r.l. avrebbero perso il posto. A partecipare alla riunione oltre l'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia e tutti i sindacati anche Nicola Baranello procuratore dell'SPA in sostituzione dell'amministratore delegato Alfieri che terrà la carica fino al 30 aprile quando dovrà presentare il bilancio dello zuccherificio. Il liquidatore Lorenzo Di Nicola e il nuovo amministratore delegato Massimiliano Milano. I contratti dei 16 lavoratori passeranno quindi dal vecchio zuccherificio S.p.a. al nuovo zuccherificio del Molise S.r.l. La soluzione che abbiamo trovato d'intesa con i vertici della S.r.l. della Nucco è proprio la gestione dei contratti di questi 15 lavoratori la cui cassa integrazione scadrà il 30 aprile e d'accordo con il commissario liquidatore nei prossimi giorni predisporremo la gestione dei contratti di lavoro dei 15 distaccati. In questo scenario l'assessore Petraroia ha ricordato l'importanza dello zuccherificio unico impianto che opera nel centro-sud Italia. Si tratta, detto, di uno stabilimento di importanza strategica per il Molise e dobbiamo essere bravi a non perderlo anche perché, ha continuato Petraroia, l'Italia importa dall'estero una grande quantità di zucchero per soddisfare il fabbisogno della nazione. Ma è anche vero, ha concluso l'assessore, che il Molise da solo non può prendersi carico di tutto lo stabilimento di Termoli. Il governo deve intervenire al più presto. Intanto per domani è previsto a Roma un tavolo con il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina e i rappresentanti del settore per capire quale sarà il futuro dello zuccherificio del Molise. E in una nota la parlamentare del Partito Democratico Laura Vennitelli ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto al termine dell'incontro in assessorato sui 16 dipendenti dello zuccherificio. Un passo importante ha dichiarato che speriamo si compia nel più breve lasso di tempo possibile per garantire non solo le prospettive alle famiglie dei lavoratori, ma anche la continuità produttiva e industriale dell'impianto saccarifero. Parliamo ora della permanenza della sede dell'Università Aisernia nell'ex convitto Vescovile. Ci sono due novità. La posizione del Rettore, secondo il quale la somma messa a disposizione dalla Regione sarebbe troppo esigua, ma il fatto nuovo è che il Comune ha annunciato che dal prossimo anno potrebbe farsi carico per intero delle spese d'affitto. Ancora Enzo Di Gaetano. Università Aisernia, la matassa si aggroviglia sempre di più. Sembrava che il pericolo abbandono dell'ex convitto Vescovile fosse scongiurato grazie all'approvazione dell'emendamento al bilancio regionale presentato da Iorio e poi fatto proprio anche da Scarabeo e altri della maggioranza. Ma non è così. Infatti, mentre la proposta iniziale di Iorio parlava di un contributo da 100.000 euro per il 2014, quella approvata poi in aula ha ridotto lo stanziamento a soli 45.000 euro. E così è arrivata puntuale la nota del Rettore che giustamente fa notare come con quella cifra così irrisoria il problema non sia affatto risolto. Per Palmieri si tratta testualmente di un trattamento comunque inidoneo per la misura insufficiente dello stanziamento e per il suo carattere episodico a giustificare la permanenza dell'Ateneo nell'ex convitto Vescovile di via Mazzini. Insomma, campane a morto per l'università nel centro storico almeno per il 2014 perché a partire dal 2015, e qui c'è la novità, il comune di Isernia assicura Brasiello è disponibile a farsi carico integralmente delle spese di fitto. Per questo ha chiesto per i prossimi giorni un incontro con Palmieri per definire ogni particolare. Ma il problema 2014 resta comunque sul tappeto. La regione tira fuori solo 45.000 euro. Il resto chi lo tira fuori per impedire all'università di fare le valigie? Ne sembra una garanzia sufficiente quella che mette sul tavolo il comune di Isernia parlando di un atto di indirizzo a partire dal 2015. Ora si deve parlare del 2014. Al momento i soldi non ci sono, a meno che la curia isernina rinunci a parte dell'affitto che dovrà incassare. Inutile dire che i politici tutti non ci fanno una bella figura. Palmieri da tempo aveva avvertito regione comune, ma hanno dormito tutti. Ora si affannano e cercano rimedi dell'ultima ora. Intanto lettere e beni culturali non c'è più e tra poco, a meno di un miracolo, anche scienze politiche andrà via dal centro storico. Una riflessione sulle date. L'Università del Molise, correttamente, aveva avvertito da settembre sia regione che comune. Sono passati otto mesi e tutto è ancora all'anno zero. Non è così che si difendono le conquiste fatte in passato ed è inutile lamentarsi accusando gli altri, nel caso specifico l'Università del Molise, quando la colpa è di quei politici che sono rimasti a braccia concerte per otto mesi. Giovanni D'Ercole è stato nominato da Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno. Dunque sono state smentite dai fatti le voci che volevano il prelato già ausiliario all'Aquila. prossimo Vescovo di Isernia per la guida di quest'ultima diocesi, fonti vicine alla Curia, indicano come imminente proprio la decisione del Papa. Nessun aumento dei tributi in vista per i cittadini di Vinchiaturo. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato il bilancio di previsione per il 2014 che conferma le aliquote attuali. Sentiamo. Il Comune di Vinchiaturo, nonostante i tagli decisi dal Governo centrale, anche per il 2014 è riuscito a non aumentare la pressione fiscale. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato all'unanimità il bilancio di previsione, quello pluriennale, un risultato importante per l'amministrazione e soprattutto per i contribuenti di Vinchiaturo che, a differenza di quelli di molti altri comuni molisani, non saranno ulteriormente tartastati da nuovi aumenti. L'amministrazione è guidata da Luigi Valente, dunque è un'amministrazione sana e soprattutto virtuosa e i conti lo certificano. Stiamo provando a resistere, a resistere a non applicare ai cittadini l'aumento delle aliquote. Infatti anche quest'anno abbiamo deciso di non aumentare nessuna aliquota, né quella relativa all'addizionale IRPEF, nemmeno quella relativa all'IMU e dobbiamo dire che abbiamo anche ridotto, seppur leggermente, la tassa sui rifiuti solidi urbani e abbiamo provato, proviamo a non applicare la tasi. Noi abbiamo fatto un'azione in quest'anno di amministrazione di oculatezza, abbiamo cercato di eliminare quanto più possibile le spese superfue, gli sprechi e poi abbiamo fatto una forte azione di recupero dei crediti del Comune perché abbiamo agito secondo il principio paghiamo tutti e paghiamo meno. Il voto favorevole dell'opposizione non soltanto al bilancio, a tutti i regolamenti ma anche al piano triennale delle opere pubbliche significa che i consiglieri di opposizione apprezzano il lavoro svolto dalla maggioranza, in qualche modo lo fanno proprio. Questo ha un significato politico importante e sicuramente per la cittadinanza è un fatto positivo. E ora ci spostiamo a Campo di Pietra per vedere come è andata la quinta edizione della Passione Vivente. Centinaia di visitatori hanno affollato il paese fino a tarda sera. Il cammino della speranza dalla nascita alla rinascita di Gesù è stata la quinta edizione della Passione Vivente di Campo di Pietra che anche quest'anno ha portato in paese centinaia di visitatori che dalle venti in poi hanno assistito alla rappresentazione teatrale di tutta la vita di Gesù, dalla nascita alla resurrezione. Ad organizzare la manifestazione l'Associazione Genitori per il Futuro di Campo di Pietra con il patrocino del Comune e la pastorale giovanile della parrocchia. Io sono rappresentante della pastorale giovanile e cerco sempre di coinvolgere sempre di più i giovani e anche i bambini ma in queste occasioni coinvolgiamo anche i genitori, i nonni, per cui tutta la popolazione che viene coinvolta. Ogni anno sono circa 250 i personaggi che vi partecipano e una delle cose importanti è quella che il centro storico all'improvviso si anima ed è un piacere proprio vedere animarsi questo paese in questa zona soprattutto del paese che rimane un po' spenta tutto l'anno. Due mesi di duro lavoro per mettere in piedi la rappresentazione. 12 scene recitate, un video con la pietà di Gesù, oltre 200 figuranti, tanti bambini e in chiusura un musical per raccontare la resurrezione del Signore. L'intesa che c'è tra i cittadini di Campo di Pietra, della volontà di tutti i costi di svolgere questa passione per la quinta anno di seguita. Ci sono stati tanti sacrifici in due mesi di preparazione, però abbiamo vicino la parrocchia e l'amministrazione comunale che è un sostegno senza di loro sarebbe impossibile fare una manifestazione del genere. A Campo di Pietra tutto il paese si è unito per portare in scena una passione vivente unica che ha ripercorso tutta la vita di Gesù, partendo proprio dalla nascita, a rappresentare la prima scena una famiglia di Campo di Pietra che da pochi mesi hanno avuto il loro bambino. Visto che la passione quest'anno parte dalla nascita alla rinascita, noi avevamo un bimbo vero, nato tre mesi fa e quindi abbiamo accettato di fare Giuseppe Maria e naturalmente Gesù. Abbiamo accettato con molto piacere, per noi è un onore rappresentare la Sacra Famiglia, speriamo che nel nostro piccolo facciamo qualcosa per noi, per la comunità e per lui. Anche l'arcivescovo Bregantini ha partecipato, seppur in tarda serata, alla passione vivente di Campo di Pietra. Queste manifestazioni sono necessarie per noi tutti per rafforzare la fede, ha detto Bregantini, soprattutto in un periodo troppo multimediale dove i rapporti tra le persone si sono persi. E' entusiasta il parroco del paese per la buona riuscita dell'evento che ha anche lanciato l'idea per l'apertura di un oratorio. Ci sono tanti bambini, tanti giovani e sto pensando a loro sinceramente, insomma, da cinque anni. Ho messo una pietra lì sotto e l'ho chiamato oratorio, ma spero di poter realizzare questo progetto religioso, sociale, per la comunità. Ecco, non appena purtroppo le suore se ne andranno via, se ne va via una istituzione. Però ecco, sono locali della parrocchia che saranno utilizzati al meglio per la gente, per i giovani in modo particolare. Parliamo ora della settima edizione della Passione Vivente a Larino, curata dall'Associazione CAR. Oltre 200 partecipanti tra attori e figuranti, toccante l'interpretazione di Maurizio De Notaris nella parte di Gesù. Grandissima la partecipazione dei visitatori. C'era per noi Emanuela Iorio. Successo a Larino per la settima edizione della Passione Vivente che anche quest'anno ha attirato un pubblico numeroso proveniente dai paesi vicini. Oltre 200 trattori e figuranti hanno preso parte alla rappresentazione che si è svolta in Piazza dei Frentani, dove sono state allestite diverse scenografie e dove una voce narrante ha accompagnato il pubblico. Dall'ultima cena al tradimento di Giuda fino alla fustigazione pubblica di Gesù. L'Associazione CAR si è occupata di tutto. Scenografia, musica, attori, comparse, abiti di scena e trucco, come ha spiegato il Presidente dell'Associazione Giuseppe Petriella. Ci siamo preparati spiritualmente molto sereni, con tanta voglia di fare bene e di essere contenti di fare questa cena e più che altro per la gente che ci segue. Noi ce la mettiamo tutto come sempre e siamo orgogliosi di farla. Grande la commozione tra il pubblico, soprattutto grazie all'attore che interpretava Gesù, protagonista di una via crucis suggestiva, con indosso una croce di ben 80 chili che gli ha reso il cammino a piedi scalzi ancora più arduo. D'impatto anche la scena al Golgotha, in cui Gesù viene crocefisso e accanto ai due ladroni muore nella remissione dei peccati, tra l'emozione di un pubblico affascinato dalla location e dagli effetti scenici utilizzati. Il coordinamento delle scene e delle stazioni è stato curato dal parroco della Chiesa della Biata Vergine delle Grazie, Don Antonio Mastantuono. La Sacra Rappresentazione, non solo questa, fanno parte di un mondo molto più vasto che noi chiamiamo la pietà popolare o meglio andrebbe detto la spiritualità popolare. Cioè un modo come il popolo vive la propria fede, incarna la propria fede, è capace di rileggerla e di ridirla. La rappresentazione della passione vivente è quindi inserita dentro un filone che dentro la nostra realtà vive altri grandi momenti come il presepe vivente, i grandi giorni della festa patronale di San Parto. Per questo credo si innesti su questo fondo di questa spiritualità di un popolo che vive la propria fede. Siamo in chiusura ma c'è prima un appello per la scomparsa di un cucciolo di pastore tedesco. Si tratta di una femmina di sette mesi e ha il collare, la vediamo nella foto, è sparita ieri nella zona della nuova comunità di Ferrazzano. I proprietari hanno già sporto denuncia ai carabinieri e al servizio veterinario della Asrem. Chiunque lo ritrovasse, questo bellissimo cane o avesse informazioni in merito può come sempre contattare la nostra redazione. Termina qui l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Buonanotte.